Salve amiche e amici, oggi apro con questo fotogramma del video di ieri, che ho pubblicato ieri, di Vladislav Majustrok, giornalista ucraino, che appunto ci parlava del fatto che l'Ucraina si trova in questa situazione da 4000 giorni, non da 1000, e che insomma gli aiuti da parte dell'Occidente sono sempre stati un po' a singhiozzo, indecisi, c'è sempre stata tanta indecisione e quant'altro. Devo essere onesto, io non conoscevo questo giornalista perché non guardo la televisione italiana, lo sapete, non la seguo da oltre 20 anni, e ho le mie ragioni. Solo grazie a voi e ai vostri commenti sono venuto a conoscenza di tanti opinionisti televisivi italiani che parlano del conflitto in modo piuttosto dubbio, e avrei anche fatto volentieri a meno di conoscerli, voglio dire. Mi ha colpito il commento della signora Pina che mi ha scritto Ho seguito Majustrok fin dall'inizio del conflitto quando veniva invitato in tv e cercava di spiegare tranquillamente le ragioni per cui la Russia le aveva invasi. Veniva attaccato sempre, non lo lasciavano parlare. Ricordo ancora che poi ha perso la pazienza con personaggi di cui non posso fare il nome, ma sapete a chi mi riferisco, e poi non è più stato invitato purtroppo. La verità fa male. Allora, cara signora Pina, grazie mille per questo commento. Sì, ho letto poi anch'io diversi articoli, infatti Vladislav veniva spesso invitato sulla 7, ed è proprio lì che si è scontrato con certi personaggi nostrani. Ora, onestamente qui di nuovo faccio l'ennesimo appello, non sia mai che qualche giornalista italiano finisca nella mia pagina, e senta questo video, o qualche redattore o produttore televisivo, perché le cose devono sempre degenerare nella televisione italiana, perché bisogna sempre fare in modo che finisca in cacciara, litigate, con personaggi dubbi, che spesso dimostrano zero preparazione sul conflitto in Ucraina, o che sono apertamente schierati dalla parte sbagliata della questione. Insomma, queste sono le mie domande, soprattutto secondo il mio punto di vista, io credo che il pubblico, le persone a casa, siano veramente stanche di questo modo di fare televisione, che vogliano più chiarezza, e che bisogna in qualche modo avere dei toni più pagati, in cui si descrive la situazione senza che due personaggi si prendano a parolacce o gridino uno verso l'altro. Insomma, penso che questo sia veramente pessimo modo di fare televisione. Ok, allora, le notizie di oggi che affronteremo sono tante, quindi mettetevi comodi. Come sempre, prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, mettete in pausa il video, iscrivetevi al canale, e lasciate un mi piace anche qui, perché sono due gesti fondamentali per aiutarmi in questa iniziativa. Le notizie che affronteremo oggi sono ovviamente le più importanti, sono legate alla risposta ucraina, ora che finalmente sono arrivate delle autorizzazioni per poter colpire la Russia, vedremo cosa accadrà, quali sono state le risposte da parte russa, quali sono state le dichiarazioni televisive, le dichiarazioni politiche fra ieri e oggi, visto che, come ho già accennato, sono trascorsi mille anni dall'invasione su larga scala vigliacca e ingestificata da parte russa. Quindi, iniziamo. Allora, apro le danze con le parole di Rutte, responsabile per quanto riguarda la Nato, che fa un po' chiarezza su quello che è stato l'attacco di ieri, condotto dall'Ucraina, con i missili balistici ATAC-IMS, non nella regione di Kursk. Quindi, come dicevo, fra l'altro, anche nella live di ieri con Tom del canale ND, che ringrazio tantissimo per la bella live insieme, vi passo il link in descrizione se volete rivederla o vederla. Insomma, ieri l'Ucraina ha risposto ai 210 missili e droni lanciati da Mosca dei giorni scorsi, che hanno ucciso diversi civili e feriti, decine e decine di feriti, l'Ucraina ha risposto con un attacco con questi missili forniti dall'Occidente. E se in un primo momento Biden aveva parlato di autorizzazioni a colpire solo nella regione di Kursk, in realtà, come vedete dal segnalino, poi la risposta Ucraina è arrivata ben più lontano e ha colpito un deposito di munizioni fondamentale per le risorse militari russe. Anche questo da sottolineare, mentre la Russia impiega la sua aviazione e le sue risorse missilistiche per cercare di colpire la popolazione civile e le infrastrutture energetiche del paese, l'Ucraina risponde colpendo obiettivi strategici. Ora, la parola e dirutte sono importanti, parla pochissimo in realtà questa dichiarazione, ma quello che dice è essenzialmente il fatto che quando la Nato fornisce le armi all'Ucraina, in realtà l'Ucraina è libera di usarle come vuole. Sta poi ai singoli paesi che forniscono quelle armi a, come devo dire, sottolineare certe restrizioni. Sembra un po' un giro di parole, però ci dice anche qualcos'altro, cioè ci dice che fondamentalmente è materiale classificato, è materiale di cui non si discute apertamente. Non è che adesso telefonano l'Ucraina e fanno un comunicato stampa e poi dicono, ok, da oggi potete colpire, che ne so, il gabinetto privato fuori dall'abitazione di un certo personaggio russo, per fare un esempio, no? Cioè, è chiaro che poi queste cose non sono concordate e avvengono su un livello più segreto. In ogni caso, le parole sono interessanti perché appunto sottolineano questi aspetti. E la cosa più importante che viene detta, che fra l'altro viene detta proprio dal responsabile per quanto riguarda le operazioni Nato, ma lo abbiamo sentito anche dall'amministrazione Biden, è che queste autorizzazioni in realtà sono arrivate a causa dello schieramento delle truppe nordcoreane nella regione di Kursk, perché questo, ve l'ho detto anche nei giorni scorsi, come era prevedibile, visto che a livello di rapporto causa-effetto la Russia non conosce questo significato e non conosce neanche il significato della parola prevedibilità, invadendo l'Ucraina, schierando truppe nordcoreane, era chiaro che avrebbe scatenato le reazioni, scusate, dell'Occidente. Quindi queste autorizzazioni sembrano essere la causa, l'effetto diretto della causa scatenante delle truppe nordcoreane. E siccome ci sono rumors che parlano di uno schieramento fino a 100.000 uomini, questo già è un numero molto diverso delle 10.000 iniziali. In queste ore sono arrivate molte altre dichiarazioni, fra l'altro ulteriori equipaggiamenti americani, con una trentina di altri Abrams. L'Abrams è un mezzo di tutto rispetto, ben diverso da un Leopard, voglio dire, l'Abrams è un mostro che è un carro armato pesante, superiore in termini di corazza e equipaggiamento rispetto ai cari russi, più altri F-16, di cui ne parleremo fra poco. Il discorso che fa Jake Sullivan, portavoce per quanto riguarda il Pentagono, è che alla fine non è tanto un problema di equipaggiamenti per l'Ucraina. Siamo arrivati al punto in cui è più un problema di uomini, e che gli ucraini devono inventarsi qualcosa in termini di mobilità per poter sfruttare proprio questi equipaggiamenti. Di questo, fra l'altro, ne abbiamo parlato proprio ieri con Tommy, in cui giustamente suggeriva il fatto che forse sarebbe il momento di fare una coscrizione anche fra le donne in Ucraina, che, voglio dire, non è una cosa senza precedenti. Se pensiamo che, tanto per prendere un parallelismo storico, quando la Germania invase l'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica fece una coscrizione anche per le donne, e questo, insomma, moltiplica tantissimo le proprie risorse umane. Magari il ruolo delle donne non sarebbe quello di combattenti in prima linea, ma potrebbero tranquillamente sostituire molti dei ruoli logistici delle retrovie che sono occupati dagli uomini. Sono arrivate poi anche dichiarazioni dal primo ministro inglese oggi al G20, che vale la pena di tradurre, infatti, quello che starete per sentire. Ha fatto un messaggio direttamente a Putin, dove ha detto per il terzo anno quasi consecutivo Putin non ha partecipato a questo summit del G20, ed è l'autore del suo stesso esilio. E siamo al millesimo giorno di guerra illegale russa in Ucraina. Gli dico di nuovo di porre fine a questa guerra, di andare via dall'Ucraina. In questo momento, in cui le sfide globali ci stanno colpendo nelle nostre case, ritengo più che mai che la leadership britannica sia importante. Quindi, per il bene della crescita economica e della nostra sicurezza globale, continueremo a fare un passo avanti sulla scena internazionale, in questo momento storico, per ottenere risultati anche qui, al G20. Quindi, queste sono le parole del primo ministro, ma ieri ne sono arrivate molte altre. Queste sono, appunto, questo è quello che dice Kira Rudik, parlamentare ucraina, in cui ci dice Salve, amici! Mille giorni di invasione su basca scala. Ci sono tre lezioni che vorrei condividere con voi oggi. La prima lezione è che gli accordi con la Russia non funzionano. Lo abbiamo dimostrato nel 2014, quando il cessato del fuoco non ha nemmeno funzionato e ha solo permesso alla Russia di recuperare per costruire più fabbriche militari, addestrare i propri soldati e lanciare un'invasione sulla basca scala. La seconda lezione è che la Russia non si fermerà se non verrà fermata. Sfrutterà qualsiasi tipo di debolezza e ogni volta che dirà che sta cercando la pace, sarà solo cercando un modo per attaccarci. È dimostrato dai recenti attacchi all'Ucraina perché sono avvenuti proprio nel momento in cui c'erano tanti leader democratici che dicevano che la Russia era pronta ai trattati di pace. La terza lezione è che la Russia non è invincibile. Lo abbiamo dimostrato con la riconquista di Kherson e l'operazione di Kursk. Quindi, con abbastanza armi, con abbastanza rifornimenti consegnati in tempo, possiamo ancora vincere questa guerra. Stiamo chiedendo ai nostri partner di non rinunciare a noi, ma di darci tutto ciò che è necessario perché per noi nulla è cambiato. Come di giorno in giorno, proprio ora, al giorno mille, siamo pronti a combattere per la nostra libertà, per il nostro futuro, per la nostra democrazia. Ciò di cui abbiamo bisogno è aiuto. E questo è ciò che stiamo chiedendo. Non i negoziati, ma l'aiuto per combattere la guerra e vincerla. Sono parole molto chiare da parte di Kira Rudik. Sono arrivate anche parole ieri al millesimo giorno di conflitto, anche da Ursula von der Leyen, che ieri, appunto, mentre cercavo contenuti da proporvi sul canale, sono incappato in diversi video che appunto mostravano un po' una sintesi di questi mille giorni. È stato difficile vederli perché ovviamente ti causano un nodo in gola. È difficile. Ursula può essere criticata, a qualcuno non piace, ci sono tanti anti-europeisti in Italia, lo so, però non si può non riconoscere il suo ruolo fondamentale di presidente della Commissione Europea. E ancora, io penso di essere, onestamente non ho problemi a dirlo, sono una persona fortemente europeista, ma non lo dico tanto per una questione politica, ma quasi storica, nel senso dopo aver visto tutto quello di cui siamo stati capaci, fra nazioni che si sono combattute per secoli, finalmente un periodo in cui si parla di una sorta di unità, mi sembra quasi incredibile. Ursula era presente quando vennero svelati i massacri di Buccia e andò lì in quei giorni. In questa sequenza si vede proprio lei che assiste al momento in cui vengono portati via alcuni, alcuni corpi. insomma, è una persona che era lì e ieri ha fatto alcune dichiarazioni interessanti che vale la pena di tradurre. mille giorni fa la Russia ha cercato di azzerare l'Ucraina e per mille giorni la Russia ha fallito. Perché la resistenza ucraina e il sacrificio dei suoi eroi hanno fatto l'impossibile. Oggi è il giorno della memoria, ma è anche un giorno delle promesse, promesse di stare insieme all'Ucraina, fianco a fianco, per tutto il tempo che è necessario. Potete stare certi che l'Europa e l'Occidente continuerà a supportare l'Ucraina e continuerà a fornire aiuti. L'inverno davanti è alle porte e sembra spaventoso, ma proprio nei giorni difficili si vedono gli amici e l'Europa è il vero vostro amico. La vostra libertà è la nostra libertà. La vostra unione è la nostra unione. Lunga vita all'Europa, Slava Ucraina. Quindi, andiamo avanti. C'è anche il discorso di Zelensky proprio in seguito agli attacchi che l'Ucraina ha portato sui depositi di munizioni nella regione di Bryansk. Oggi ha fatto una dichiarazione molto sbrigativa e veloce perché giustamente dice spiacente, niente dettagli aggiuntivi oggi. L'Ucraina ha capacità a lungo raggio. Abbiamo droni a lungo raggio. di nostra produzione. E adesso abbiamo anche missili da crociera Neptune che possiamo usare. E non solo questi. Abbiamo missili balistici Atachi Ems e li useremo. Li useremo tutti. Questo è un discorso molto sintetico che però appunto sta a indicare come gli ucraini hanno la capacità con grande dignità di rispondere a questi vili attacchi contro la propria popolazione perché, continuo a ripeterlo, in questi ultimi tre giorni la Russia ha condotto attacchi indiscriminati contro la popolazione civile verso le infrastrutture energetiche che servono proprio ad alimentare il riscaldamento nelle case ed elettricità nelle case proprio in arrivo dell'inverno che voglio dire, no? Cosa c'è di più meschino di questo quando invadi una nazione e in più colpisci la sua popolazione civile? Non ci sono giustificazioni Un discorso interessante sulla produzione di missili ucraini che fra l'altro ci tornerò nei prossimi giorni con maggiori dettagli è che alla fine nessuno impedisce all'Occidente di dare supporto all'Ucraina nella costruzione di questi missili Se il problema sono le componenti occidentali benissimo diamogli le schede elettroniche diamogli i microprocessori che se li montino da soli voglio dire non vedo nessun problema di dargli degli schemi di costruzione e delle linee di montaggio per metterli in atto questo possono farlo e infatti sono capacissimi di farlo con il missile Neptune che era un missile antinave inizialmente sono stati capaci di adattarlo come missili da crociera lo stesso stanno facendo con altri sistemi d'arma e questo cambierà un po' l'andamento delle cose lo vedremo nei prossimi minuti nel frattempo la televisione russa ci delizia con la sua solita follia discorsi completamente surreali in cui c'è questo signore che parla di colpire i satelliti NATO i satelliti americani perché così imparano e questo così dice con parole molto scurrili dice anche questo gli serva da lezione per la loro morale e poi il presentatore dice ma sì ma che ce ne frega che te ne frega di colpire i satelliti perché non colpiamo direttamente le loro basi militari dove assemblano gli equipaggiamenti che poi mandano contro di noi bello il canale 1 voglio dire se che ne so su Rai 2 italiano abbiamo non so una Flavia Vento che dice che vuole darsi alla castità nella televisione russa parlano di attacchi nucleari e di colpire i satelliti c'è solo un piccolo problema quando colpisci i satelliti perché alcuni esperimenti sono stati fatti questo per esempio è una ricostruzione di quello che hanno fatto i cinesi qualche tempo fa hanno voluto disintegrare un loro satellite meteorologico non più in funzione per vedere se ci riuscivano se è possibile certo che è possibile colpire un satellite in orbita nessuno voglio dire le tecnologie ci sono il problema è che dopo un mese questo era lo sciame di detriti generato da quel satellite che praticamente ti preclude l'utilizzo per decenni di quell'orbita perché un satellite va in frantumi i suoi frammenti viaggiano a velocità assurde e tutta quell'orbita ti viene completamente riempita dai detriti quindi cosa succede se la Russia colpisce i satelliti nato o americani poi i detriti finiscono per colpire i suoi stessi satelliti è proprio una stupidaggine da dire la televisione russa che fra l'altro vi accennavo ieri durante la live con Tommy diceva appunto mostrava di come colpiscono la Germania l'Ucraina Londra la Francia però poi in qualche modo l'Italia la lasciano sempre in pace anche la Spagna devo essere onesto l'Italia la Spagna no non le considerano quindi cosa devo dire le spiegazioni sono due o non ci considerano cioè per loro siamo una nullità oppure non sia mai che qualche bombetta finisce sullo yacht di lusso o la villa sul lago di Como di qualche produttore russo secondo me più la seconda delle due spiegazioni detto questo come vi accennavo la risposta ucraina non si è fatta attendere infatti nella notte fra ieri e oggi ci sono stati due attacchi nella regione nell'area di Alexivka e poco più più oltre poco più est a Kamenemka dove sono state colpite delle fabbriche militari di produzione militare e per quanto riguarda una raffineria di petrolio sempre per scopi militari l'attacco più importante avvenuto con missili a Tanchi Ems è su questo deposito anche qui comunque nella notte sono arrivati qualcosa come 42 si parla di 42 droni ucraini scusate rettifico 45 droni ucraini che hanno attraversato diverse regioni russe colpendo diversi obiettivi uno di questi obiettivi fra l'altro anche un altro deposito di munizioni a Novogrod dove era appunto stoccate diverse unità di S-300 S-400 SA-15 TOR e missili norcoreani KN-23 questo bersaglio è stato raggiunto da dei droni mentre appunto il bersaglio colpito dai missili occidentali ACMS era un grosso deposito di munizioni un altro bersaglio che è stato raggiunto da dei droni oggi è una nostra vecchia conoscenza del 9 giugno questo aeroporto qui in particolare l'aeroporto era stato interessato da droni il 9 giugno che avevano colpito una nostra vecchia conoscenza il Sukhoi 57 ora non vedo l'ora di vedere le immagini satellitari non appena ci sarà un po' più di bel tempo in particolare i satelliti potranno dirci se ci sono state zone colpite sull'aeroporto per poter appunto fare un rapporto dei danni su questo aeroporto se vi interessa ne avevo parlato avevo parlato di questo proprio nel video dedicato a questo attacco il 9 giugno dove furono colpiti 2 su 57 1 in modo piuttosto grave tra l'altro si vedevano grossi danni proprio alla sezione frontale dell'aeroplano detto questo ovviamente la situazione è al fronte l'ho già riportata ieri non ci sono grossi cambiamenti la notizia del giorno è che l'Ucraina si è dotata personalmente sta costruendo qualcosa come 3000 messi da crociera più qualcosa come 30.000 droni a lungo raggio e questo comporta un bel problema per Mosca che ha già risposto che ci sarà un escalation ha già modificato il proprio programma nucleare di risposta nucleare però ecco cito The Institute of War anzi prima vi mostro questa immagine dove c'è appunto a seguito degli attacchi all'Ucraina di questi giorni le conferme arrivano anche via satellite e mostrano appunto i loro bombardieri che vengono schierati proprio vicini all'Ucraina per poter lanciare emessi da crociera questi sono Tu-95 in bianco scusate no in grigio Tu-160 in bianco questi sono grossi bombardieri che nelle loro stive possono portare 9 anche di più di questi missili da crociera che poi vengono lanciati è chiaro che l'Ucraina deve colpire questi aeroporti lo ripeto la cosa più importante non è intercettare i missili che sorvolano l'Ucraina ma colpire gli aerei che li lanciano e colpire gli aeroporti da cui partono se riescono a fare questo la Russia per poter condurre gli attacchi dovrà partire da molto più lontano il che significa maggiore usura degli aeroplani difficoltà di coordinamento consumo di carburante a un certo punto non varrà più la pena di condurre attacchi sull'Ucraina perché se un aereo deve farsi 2000 km per lanciare i suoi ordigni è chiaro che diventa molto costoso sia per la macchina che per il carburante che per tutto il resto voglio dire se la Russia finché la Russia continua a usare i suoi aerei partendo dalle basi vicino all'Ucraina avrà sempre gioco facile la sua aviazione detto questo The Institute of War fa un po' il sunto della situazione a Ieri in cui appunto descrive che le forze ucraine si sono difese dall'invasione russa su Vargas Kala per mille giorni e continuano a dimostrare un'incredibile resilienza contro l'aggressore russo l'Ucraina continua a migliorare le sue capacità belliche e a prepararsi a essere autosufficiente nel lungo termine lo abbiamo appena detto con le sue produzioni le forze ucraine hanno condotto il primo attacco a TAMCS sul territorio russo nella notte fra il 18 e il 19 novembre colpendo un deposito di munizioni a Karachev nell'Obrast di Briask questo pochi giorni dopo aver ottenuto l'autorizzazione a condurre attacchi di questo tipo il presidente russo Vladimir Putin ha modificato la dottrina nucleare l'adozione da parte della Russia di una dottrina nucleare modificata è l'ultima iterazione delle ormai frequenti agitazioni nucleari russe e non rappresenta un cambiamento sostanziale nella posizione nucleare della Russia nella sua dottrina o nella minaccia dell'impiego di armi nucleari il Cremlino ha tentato ripetutamente di usare minacce nucleari per scoraggiare il sostegno militare all'Ucraina e i continui sforzi del Cremlino per iniettare minacce nucleari nello spazio informativo indicano che è preoccupato per l'impatto sul campo di battaglia di attacchi ucraini e la Russia con armi fornite all'Occidente del resto chi ha memoria si ricorda che Putin se ne uscì col fatto che se gli ucraini avessero attaccato le regioni occupate avrebbe risposto col nucleare se gli ucraini avessero ricevuto gli F-16 avrebbe risposto col nucleare se gli ucraini avessero condotto attacchi in Russia avrebbe attaccato col nucleare questo è evidente cioè ormai sono delle dichiarazioni che non hanno alcun senso fra l'altro è proprio la Costituzione russa che prima della guerra diceva molto chiaramente che nel momento in cui una qualsiasi nazione attacca la Russia la Russia è autorizzata a usare il nucleare quindi se non hanno risposto col nucleare quando gli ucraini hanno invaso la regione di Kursk beh sarà difficile che lo faranno adesso che gli ucraini rispondono a 210 missili e droni che gli vengono lanciati sul proprio territorio solo di recente l'Ucraina ha iniziato a dotarsi dei sistemi d'arma e delle capacità militari necessarie per condurre moderne operazioni di combattimento su larga scala in futuro potrebbe essere in grado di condurre contro offensive e significative dal punto di vista operativo a patto che l'Occidente rafforsi lo sforzo delle capacità ucraine su larga scala per quanto riguarda la situazione al fronte le forze russe sono recentemente avanzate nelle principali saliente ucraino nell'oblast di Kursk e nella zona di confine di Donetsk Zaporizia mentre le forze ucraine sono recentemente avanzate a nord della città di Kharkiv questo lo possiamo vedere per grandi linee anche sulla mappa di Mayakosk dove ci sono stati diversi tentativi russi di controffensiva nella zona di Kursk qui qui e qui a quanto pare sono stati respinti a nord qui e qui dove non hanno ottenuto alcun significato ma in quest'area gli ucraini hanno perso un po' di posizione quindi questo viene riportato dal sito degli institute of war altrove la situazione nell'area di Kharkiv ci sono dei progressi ucraini questo molto recente proprio ieri dove carri armati ucraini stanno avanzando sulle posizioni russe come vediamo in altre zone c'è stato un arresto delle operazioni russe in questa zona per quanto riguarda invece il saliente principale nella zona di Chasiviar le ultime conquiste russe sono in quest'area a sud come vi anticipavo nei giorni scorsi non riuscendo a superare le fortificazioni di Chasiviar si sono dedicati a cercare di aggirare il problema spingendo più a sud la zona di Toresk è instabile l'abbiamo commentata anche ieri nella diretta con Tommy e invece per quanto riguarda Pokrovsk situazione sempre molto bloccata nei 5 km rimasti per l'avanzata diretta verso Pokrovsk mentre in tutte queste zone di Kurakove la vecchia area di Vugledar i russi riescono a ottenere vantaggio la situazione comunque è abbastanza ferma nonostante i russi negli ultimi 15 giorni sono riusciti a portarsi a ridosso di Kurakove probabilmente in questi prossimi giorni i combattimenti si svolgeranno nell'area urbana c'è stato un piccolo contrattacco da parte ucraina proprio il 17 e lo vediamo fra l'altro anche qui a poco a sud est di Zaporizia dopo c'erano stati intensi bombardamenti e airstrike da parte dell'aviazione ucraina proprio sulle posizioni russe andiamo avanti allora un'altra notizia correlata è la stata la consegna di altri 6 F-16 da parte della Danimarca sempre all'Ucraina il ruolo dell'F-16 è stato fondamentale nell'intercetto dei 210 oggetti lanciati dalla Russia dove sappiamo che hanno abbattuto 10 bersagli aerei questa è un'immagine proprio di un F-16 ucraino lo riconosciamo dai colori dal giallo sulla deriva ed è in decollo su Scramble probabilmente proprio col post bruciatore acceso altra notizia passiamo avanti per quanto riguarda l'eventuale risposta russa pare sia stato schierato il loro RS-26 Rubsen Rubetz è praticamente un missile a lungo raggio balistico questo è un missile nucleare che la Russia voglia fare dei test contro Kiev vedremo nei prossimi giorni certo è un'azione che ha più di peso politico a questo punto non so cosa vorranno fare i russi lanciarlo con una testata balistica normale convenzionale certo è che il lancio di un oggetto del genere allora c'è un discorso sul lancio delle armi tattiche non passano in osservate cioè tutto devono muoversi in colonne ben organizzate perché hanno bisogno di parecchi mezzi da supporto quindi vengono visti vengono prelevati da dei depositi che vengono tenuti sotto controllo dai osservatori internazionali dai satelliti quindi si seguono i loro spostamenti anche per questo che se ne parla oggi insomma altrimenti no cioè quindi non sono delle mosse come devo dire segrete da parte della russia e quindi poi non solo vengono spostati e potrebbero essere facilmente anche intercettati da eventuali sabotatori il momento del loro lancio poi viene altrettanto visto via satellite il missile balistico poi ha una traiettoria prevedibile e può essere intercettato alla fine del suo percorso è chiaro che nel percorso finché nello spazio non è possibile raggiungerlo perché viaggia nell'ordine di Mach 20 però quando arriva verso il terreno deve comunque rallentare come tutti i missili del resto non esistono oggetti che quando arrivano vicino al suolo riescono a mantenere quelle velocità ed è nella fase terminale che possono essere intercettati passiamo avanti colgo l'occasione per riportare questo articolo di next tv in cui si fa un discorso molto spiccio ma che trovo molto condivisibile quello che viene detto è fondamentalmente che con i bulli come Putin non è che ci puoi dialogare non sono persone con cui puoi trattare e la diplomazia possa funzionare tanto meno le sanzioni perché alla fine la Russia è sanzionata da decenni dall'operazione in Georgia dall'invasione della Crimea sono scattate altre sanzioni nel 2022 non è che si ferma per le sanzioni e il dialogo non funziona quello che funziona con i bulli è come si dice dalle mie parti corcarli di mazzate cioè devi fare fronte comune e minacciarli pesantemente cioè perché conoscono solo quel linguaggio i bulli quello che dice questo giornalista nel suo articolo di Nexta TV è che nel 2008 secondo lui la guerra in Georgia si fermò proprio nel momento in cui la flotta la sesta flotta americana entrò nel mar nero questo mise il pepe a Putin che fermò l'operazione in Georgia quindi secondo lui se l'occidente fosse stato molto più deciso per esempio nel creare una no fly zone sull'Ucraina avrebbe prima di tutto mostrato molta più forza e determinazione nella risposta avrebbe impedito per esempio le migliaia di vittime che ci sono state nei civili e questo questo è assolutamente condivisibile e probabilmente oggi non ci troveremo a parlare di mille giorni giorni di guerra bene andiamo avanti allora notizia di ieri c'è stato un sabotaggio secondo il ministero della difesa tedesco una nave battente bandiera cinese con la sua ancora ha deciso di troncare di netto il cavo in fibra ottica che metteva in comunicazione la Finlandia con la Germania i cavi a fibra ottica scorrono lungo l'oceano gli oceani e sono fondamentali per le comunicazioni internet per i passaggi di informazioni non è la prima volta che succede non a caso fra l'altro è successo anche proprio nelle acque infestate dalle azioni uti secondo questi articoli si parla di una nave battente bandiera cinese vi mostro questa immagine dovrebbe vedersi meglio una nave petroliera si parla di bulk carrier mercantile questa nave poi dopo aver tranciato i cavi ben due volte come vedete con una traiettoria circolare questi sono trascinamenti della sua ancora è stata poi intercettata da una nave finlandese danese scusate la danese navy patrol p525 una nave di questa classe che a quanto pare poi è stata abbordata il comandante della nave cinese pare sia un russo secondo il ministero della difesa tedesco si tratta di una vera e propria azione di sabotaggio in piena regola senza precedenti per una sorta di guerra ibrida ennesima provocazione parliamo poi di Vladimir Sikharov stella del balletto russo che questo viene stato riportato ieri e lo riporto secondo le parole di repubblica ok rivelate le cause del decesso si sarebbe esporto troppo per fumare come dire probabilmente ecco se in italia sui pacchetti di sigaretto c'è scritto che il fumo fa male in russia sui pacchetti di sigaretto c'è scritto attenzione che se fumate potreste cadere dal balcone minimo mi sembra il minimo già non so come commentare questa cosa però ecco ecco forse bisogna sui pacchetti di sigarette in russia c'è scritto attenzione dissidenti di putin che criticate il governo perché se fumate potreste scivolare dalla finestra o cadere dal balcone ok penso anche se uno non fumi comunque detto fra noi altra notizia terribile di oggi è questa testimonianza di una donna russa che a quanto pare è stata vittima di un gruppo di soldati nordcoreani nella regione di kursk non posso aggiungere altre parole perché non me lo permette l'algoritmo però penso che si sia capito cosa le è successo e poi questi soldati nordcoreani sono stati arrestati e rischiano dice l'articolo fino a 20 anni di prigione però penso che siano pochi e anche penso che una prigione per quanto possa essere russa sia un trattamento fin troppo umano per loro detto questo cari amici cari amiche come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e un abbraccio alla prossima e un abbraccio